Come si fa, come si fa. Mi fa venire in mente un'altra barzelletta, quella dell'anziano signore che gira nella Parma, a un certo punto viene giù la piena, il cane si salva, lui è in giro là col cane, lo sta portando in giro, il cane si salva e quest'uomo rimane in mezzo alla corrente, sta per affogare, beve, insomma c'è un volontario della Croce Rossa si lancia, entra dentro, lo prende, lo porta sulla riva, lo salva, ma questo è pieno d'acqua, allora deve fargli tutte le manovre, allora comincia a tirare su le braccia, ecco là, a che ne tranzia insieme all'Erzina, alberta la Sena, oh, Croce Rossa, tira sul cul dall'acqua, se no il tessug è la perma! No, io farei l'ultima, non andiamo mica più a casa, non andiamo mica più a casa, allora io vi farei questa qua che, facciamo i piumini, facciamo i piumini, ma la sapete già tutti, eh? Facciamo i piumini, allora c'è questa signora che invece si, è il marito che si lamenta della signora, no? Che insomma è una signora frigida, fredda, non ci sente, allora va dal medico, il medico dice, ma avete preso le pastiglie che vi ho dato, dottor, ma finì la scatla, non c'è niente di fare, ma la pomatina, niente, ma finì la scatla, non c'è niente di fare, beh insomma provate qua davanti a me, allora vanno sul lettino, cominciano a trombare sul lettino e questa donna è sempre fredda, che non dice niente, no? Allora c'è il medico dice, ma io proverei una cosa un po' alternativa, ho di là il mio assistente, brasiliano, che è di religione animista, allora fa questi riti propiziatori, stregoneschi, no? Magari riesce a sbloccare la signora, allora viene fuori sto brasiliano, è il du metter, un gran capace e pelico, e in maglia du piume, questi sono lì che trombano sul lettino, il brasiliano si avvicina con i piumini, e sta donna sempre fredda, allora c'è il medico che fa io proverei un estremo tentativo, intercambiatevi lei e il mio assistente, e allora che il marica smette in costo, gran capace e pel, al chapimai du piume, e il brasiliano monta la mogliera. si avvicina il marito, e comincia a fare, non un vengi da Milano, neanche giù da Langhirano, e sta donna la sargiolissa, dopo 10 minuti sbraia me, sta donna di siga me, no? e allora che il marito è, beh, faccia da merda di un brasiliano, e così vi fa fare quando eri piume, bene!